Hanno notato un ragazzo intento a parlare a lungo al citofono dell'abitazione di un'anziana in via Foscolo a Padova. Due passanti insospettiti per questa scena hanno allertato subito i carabinieri, permettendo così di evitare l'ennesima truffa. I militari hanno identificato un ventenne napoletano. Il ragazzo voleva entrare nell'abitazione dell'anziana. La donna, quando si sono presentati i carabinieri, era già pronta a consegnare soldi e gioielli per un valore di 10.000 euro. che erano stati chiesti dal truffatore come pagamento della cauzione necessaria alla liberazione di un familiare coinvolto in un incidente. Il ventenne si era finto carabiniere per ritirarli, ma fortunatamente alla porta dell'anziana sono arrivati in tempo i carabinieri veri. La donna è stata accompagnata in caserma per la denuncia e il ventenne napoletano è stato invece arrestato.